Ciao, sono Ibrahim Akande, ho 19 anni, vengo dal Senegal e sto qua a Campo Basso, diciamo in Italia sono qua da 5 anni, soprattutto a Campo Basso. Sto frequentando il liceo artistico di Campo Basso. Il mio sogno è diventare un grande stilista perché la passione è venuta dalla mia famiglia, attraverso la mia madre, anche mio zio, hanno un esatto reale. Allora la esfilata è nata perché io arrivando qua in Italia e tante persone non mi conoscono e per me l'idea è di fare vedere le persone so fare questo lavoro e mi piace fare questo lavoro. Ecco come è nata l'idea della esfilata perché volevo presentare i miei vestiti che ho cucito io, l'ho tagliato io, tutto l'ho fatto io da solo. Per realizzare la mia esfilata mi poggiate che mi può aiutare a realizzare il mio sogno, a realizzare anche la mia prima esfilata che da bambino sognavo sempre di fare una esfilata soprattutto qua.